Perché i miei genitori non mi ascoltano mai e si rifiutano di darmi una possibilità. Dicono di amarmi, ma non si fidano mai di me. Questo mi fa arrabbiare. Non ho futuro. Non posso contare su nessuno. Quando penso a mio fratello Roman, lui esce sempre. È libero di fare quello che vuole e i miei genitori gli lasciano fare ciò che gli pare. E io? Si rifiutano di lasciarmi andare all'estero a studiare. Ci sono giorni in cui vorrei che il Roman non fosse mai esistito. Signore, perdona la mia gelosia e aiutami a comprendere il mio futuro secondo la tua volontà. Oh! FIRE! 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 WE GOT FIRE! UNNO DISCOVER! Cosa volete ancora? Sto correndo Dobbiamo parlare proprio ora! È così urgente! Ok, vi ascolto! Sì, è un progetto serio Ho cercato di parlarvene più volte, ma non mi ascoltate mai. Questo progetto è importante per me. Ho bisogno del vostro sostegno. Ma Lea, ti amiamo e ci fidiamo di te. Vieni a casa, così possiamo parlarne. Vieni a casa, così possiamo parlarne. Su chi potrò contare? Non conosco nessuno laggiù. Il mio progetto potrà realizzarsi. Il mio progetto potrà realizzare. 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 Grazie, Signore, per la tua fedeltà e il tuo amore di ogni giorno. Tu mi ascolti e mi sostieni. Grazie. 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 Grazie.